Allora, premesso parlando che io e la palla a volo siamo proprio due mondi inconsapevoli, cioè nel senso che nessuno sa dell'esistenza dell'altro, io l'ultima cosa di palla a volo che ho visto era Mimìa Ua, perché mi piaceva questo, come godevo. Perché ho fatto quest'inno della Materdoni, perché la verità me l'ha chiesto un mio amico che è Paolo Iannatore insieme a Giuseppe, che sono anche gli autori di questa splendida canzone, Paolo Iannatore di cui siamo alla casa, anzi scusate il disordine. L'ho fatto così perché non ho saputo dire di no, io non sono di Castellano, ma ho visto che è un bel paese, fatto di gente bravi, di gente che sentono proprio l'appartenenza alle loro radici, ho voluto fare questo regalo, non so se vi piacerà. Una sola cosa, io notoriamente porto fortuna alle squadre, ho fatto la canzone dell'Italia e ho vinto i mondiali, ho fatto i juventini e sono andato in Serie A, quindi se non vincete siete proprio cessi forti, la colpa è vostra. Detto questo a me non mi resta che salutarvi e augurarvi un grandissimo in bocca al lupo, come si chiamano il giocatore di punta? Libraro! Libraro, spezzici le mani! Gioco, ecco la base, maestro! Amila, la squadra della tua città, come al sole che la tua passione sempre scalderà, guardi lì, scendono in campo i nostri eroi, batte forte in fondo al cuore, questa squadra siamo noi. Ma te donimi, questo coro si innalzerà dal profonto dell'anima verso la dittoria, una voce che la nostra storia racconterà, siete i nostri campioni dal cuore giallo-blu. Pensici, da un incontro nascerà, l'amicizia che per sempre i nostri cuori uniscerà, gridilo, l'orgoglio per i nostri eroi, infinito come al cielo. questa squadra siamo noi. Ma te donimi, questo coro si innalzerà dal profonto dell'anima verso la dittoria, una voce che la nostra storia racconterà, siete i nostri campioni dal cuore giallo-blu. la dittoria.